Mi sembra un po' imbarazzante. Credo che abbia fatto un po' poco, mi sembra un po' surreale. Stiamo parlando di uno dei migliori allenatori del mondo che ha vinto quello che ha vinto, ha fatto quello che ha fatto, avrà fatto quasi mille partite già da allenatore e quindi la sua media, se è così, vuol dire che è una media incredibile, visto che ne ha fatte molto poche. Io sono semplicemente contento per il momento della squadra che ha trovato il suo equilibrio, che ha trovato il suo entusiasmo di giocare al calcio, con risultati, diciamo che contro comunque squadre che sono sempre pericolose perché in Italia sappiamo benissimo da anni che chi lotta per retrocedere sono squadre super pericolose e avendoli approcciati in quella maniera mi fa ben sperare che poi anche contro la Roma avremo un approccio giusto, un atteggiamento giusto perché il rispetto che abbiamo dimostrato nei confronti di quelle squadre che si lottano per non retrocedere è stato molto positivo. Cerchiamo di continuare così.